Ma prima vi dovete fare un culo così Ragazzi non è la porta di culo, ragazzi non è il discorso di essere fortunati, non è l'entrata automatica Ve l'ho detto quella, sì le potete creare, ma prima vi dovete fare un culo così Cioè non è una roba che hanno, no no no, non arrivano così Quindi prima dovete lavorare tantissimo, ok? E questo è il messaggio che deve passare In questi giorni io insegnerò a lavorare, non a cazzo penso che sia possibile attiro la ricchezza Sì, quelle cose funzionano se sono messe insieme a tanta azione Non ha la legge della frazione e penso che diventerò ricco e poi non faccio il cazzo Non funziona così, ok?